Ciao ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi vi voglio parlare di un argomento che a me piace tantissimo, che è quello dell'arrangiamento degli archi. In particolar modo vi vorrei fare vedere qual è il mio approccio nella scrittura degli archi e per fare questa cosa qua prenderò come esempio un mio brano che ho composto e pubblicato sui social qualche giorno fa. Un brano che è scritto per pianoforte ed archi, per cui gli archi erano molto importanti, avevano un ruolo molto importante e ho dovuto provare a programmarli nella maniera più realistica possibile. Vi darò qualche suggerimento riguardo alla scrittura, anche se ovviamente questo è un argomento molto ampio che richiederebbe tante ore di lezione, però insomma analizzando questo brano qua vi farò notare come l'approccio tra la prima e la seconda parte nel pensare all'arrangiamento è proprio completamente diverso ed infine parleremo anche delle librerie che ho utilizzato. Vi chiedo semplicemente di mettere un like a questo video e ad iscrivervi al canale perché avrei voglia e intenzione piano piano di farlo crescere e di andare avanti a pubblicare dei contenuti di questo genere qua. Adesso ascoltiamo insieme questo brano così vediamo di preciso di cosa stiamo parlando e poi cominceremo un pochettino ad analizzarlo e a vedere come ho creato questo arrangiamento qua di archi. grazie a tutti grazie a tutti ok questo qua è il brano e ovviamente ho iniziato prima scrivendo la parte del pianoforte e quando questa parte qua era ben definita ed ero contento del risultato ottenuto sono passato agli archi però c'è una cosa importante in questa prima fase che voglio dirvi e cioè il fatto che mentre scrivevo la parte del pianoforte cominciavo un pochettino a pensare anche all'arrangiamento degli archi cioè ai punti in cui avevo in mente di farli entrare al modo anche in cui un pochettino arrangiarli e questo è secondo me una cosa molto importante infatti un consiglio che vi do prima di iniziare a mettere proprio le mani sulla tastiera e di iniziare l'atto pratico diciamo della scrittura vi consiglio di prendervi del tempo per ascoltare o il vostro brano se è un vostro brano oppure il brano di qualcun altro per il quale dovete arrangiare gli archi ascoltarlo 3-4 volte e incominciare a pensare agli interventi che sarebbe possibile fare con gli archi dove farli entrare che tipo di brano è se un brano un pochettino classico se un brano pop capire appunto che tipo di arrangiamento quel brano in particolare potrebbe richiedere una volta che abbiamo già un po una mezza idea la prima cosa che io faccio è quello di aprirmi un suono di strings e ensemble cosicché possa avere sulla tastiera del piano praticamente tutto il range degli archi a disposizione mi metto in genere in loop qualche battuta ed incomincio la scelta del suono la faccio consapevolmente nel senso che se ho in mente di avere un suono molto grande quindi con una sezione d'archi molto grande un suono sinfonico mi aprirò un suono di ensemble sinfonico che possono essere gli spitfire symphonic strings piuttosto che a volte utilizzo una patch di omnisphere che si chiama hollywood strings altre volte mi apro l'asse della audiobro in questo caso specifico volevo un suono un pochettino più da camera quindi un pochettino più ristretto per cui mi sono aperto questo suono di spitfire chamber strings mi metto in loop qualche battuta del brano in genere 4 5 6 al massimo diciamo e incomincio un pochettino a mettere le mani sulla tastiera per vedere quali soluzioni potrei andare a scegliere una cosa diciamo molto importante è che quando già suono comunque provo ad immaginare già come dovrò poi suddividere successivamente queste voci nelle sezioni quindi cosa dovrò affidare contra bassi cosa dovrò affidare ai violoncelli un pochettino provo a pensarci ovviamente poi avrò il tempo successivamente di andare ad agire anche manualmente sulla traccia via midi passiamo un secondo alla scrittura poi dopo torneremo a parlare anche del suono e delle library per quanto riguarda la scrittura in particolar modo questo brano qua volevo che cominciasse in un range piuttosto grave diciamo per avere un suono molto soffice e molto pieno allo stesso tempo quando scriviamo per un range grave secondo me è importante che le note abbiano il giusto spazio tra di loro infatti scrivo quasi sempre a partilate ad esempio il primo accordo è un accordo di re bemolle che ho disposto in questa maniera qua re bemolle la bemolle e fa quello che suona molto bene che dà molto equilibrio è questa distanza di decima che c'è tra la tonica e la terza dell'accordo poi ovviamente qua in mezzo ci sarebbe troppo spazio per cui è giusto dare un pochettino di equilibrio riempiendo ma riempiendo ovviamente con con degli intervalli molto consonanti quindi ho riempito con una quinta avrei potuto riempire anche con un'ottava cioè andando a mettere questa quinta sul re bemolle oppure anche andando a dividere i violoncelli andando a mettere sia la bemolle sia il re bemolle questo qua va un pochettino augusto in base a quanto vogliamo che l'accordo risulti essere pieno la nota superiore invece pensavo di affidarla ai violini secondi ed è un colore la prima nota è un si bemolle per cui avremo in maniera completa un accordo di re bemolle sesta che da secondo me è un bellissimo senso di instabilità ed è bello poi il fatto che questa sesta passi alla quinta e quindi risolva dando invece un senso di stabilità tra l'altro questo giochino lo ripeto anche sugli accordi che vengono dopo in cui appunto metto sempre un ritardo infatti la stessa identica cosa accade sul mi bemolle successivo con il do che poi risolve sul si bemolle il si bemolle che qua diciamo diventa quinta del mi bemolle ma subito dopo nella battuta 19 diventa automaticamente quarta del del fa e poi questo si bemolle diciamo che in teoria sarebbe dovuto spostare sul fa minore però ho voluto creare questo effetto sorpresa modulando e andando sul fa maggiore infatti questo qua è un successivamente il quarto accordo è un re minore anche questo qua scritto a partilate e anche questo qua con un ritardo sia del sol che va al fa e sia del mi che va al fa per cui c'è questa risoluzione si dice per moto contrario cioè abbiamo i violini primi che salgono e invece le viole che scendono è una pratica che si usa tantissimo e che crea un bellissimo effetto provo a farvi ascoltare un secondo questa parte mettendo gli archi in solo bene in questa seconda parte qua cambio completamente approccio cioè nel senso abbandono le parti late stacco completamente i contrabbassi dalla sezione perché ai contrabbassi ho affidato il pizzicato dandogli ovviamente la tonica e facendogli fare ogni tanto qualche salto di quinta e il resto della sezione e la arrangio a parti strette in questo caso specifico qua siamo in sol minore ho messo questo accordo qua di sol minore nona col si bemolle il re il fa e il la e quello successivo semplicemente con un rivolto quello dopo ancora addirittura ho messo anche la terza ho aggiunto il do che è l'undicesima sono diciamo tutte delle posizioni che si usano spesso nelle jazz un pochettino meno devo dire nel pop e questa cosa qua va avanti ancora per quattro battute per poi ritornare nel registro basso e ritorno alla scrittura a partita anche qua come si può vedere c'è una scrittura per modo contrario ossia ci sono i violini secondi che scendono e queste viole qua che invece salgono per poi incontrarsi entrambi nel do che va al si ora passerei alla fase invece della programmazione io ovviamente do praticamente una grandissima importanza questa traccia qua di quando registro il midi poi successivamente mi apro questo piano roll e sistemo tutto quanto sistemo la lunghezza delle note sistemo le varie velociti ovviamente mi registro anche la dinamica facendo midi learn e associando la module della tastiera al parametro della dinamica della libreria che è questo qua come mai è fondamentale diciamo fare un buon lavoro un ottimo lavoro avere una traccia solida e quasi completa già in questa fase qua perché diciamo che lo step successivo che io faccio è quello di aprirmi le varie istanze della sezione quindi violini primi violini secondi le violoncelli e i contrabassi ovviamente questo qua è un lavoro che io ho già fatto però per farvi capire bene quello che faccio proverò ad eliminare ad esempio qua bassi e violoncelli e quello che faccio è semplicemente andarmi a copiare questa traccia contrabassi qua in questo caso sia sui bassi sia sui violoncelli e praticamente andandomi poi a mettere sulla traccia dei contrabassi ad esempio so già che in pratica ai contrabassi affiderò questa parte qua più bassa ovviamente per cui tutte queste altre note qua non mi serviranno così avrò la parte dei contrabassi lo stesso è quello che farò sui violoncelli andrò ad eliminare la parte che avevamo dato prima ai contrabassi andrò ad eliminare la parte che darò poi successivamente alle viole e ai violini per cui in questa maniera qua capite bene che una volta che abbiamo stabilito il nostro arrangiamento ci verrà semplice poi andare a lavorare sul suono che vogliamo per quanto riguarda la library questo caso qua ho utilizzato appassionata appassionata è praticamente una libreria che si occupa quasi solo ed esclusivamente del legato perché in generale ci sono tantissime librerie in giro che sono molto belle però quasi tutte peccano un pochettino nel legato perché essendo comunque basati su campioni il campione ovviamente ha un inizio e ha una fine per cui spesso si sente proprio quando si passa da una nota all'altra il campione che ricomincia il suo ciclo e questo qua ovviamente crea un effetto molto irrealistico con questa libreria qua Spitfire ha provato un pochettino ad ovviare appunto questo problema qua io la uso quasi sempre perché va a miscelarsi bene sia con gli archi sinfonici sia con quelli da camera a questo punto qua avevo già un suono che a me piaceva parecchio che era questo qui però diciamo che mi mancava un pochettino il suono dell'arco diciamo che volevo accentuare ancora di più il fatto che si trattasse di un per questa ragione qua mi sono aperto anche delle tracce di archi solisti e ho utilizzato i cremona quartet tranne per il contrabbasso che non è presente in questa collezione qua ho utilizzato il contrabbasso sempre della Spitfire solo strings l'ultima cosa importante vorrei dirvi è come fare per riuscire ad ottenere questa grande espressione degli archi perché anche andandoli a programmare al meglio che si può utilizzando solamente la dinamica che ci dà a disposizione la libreria non si riesce comunque ad ottenere questo tipo di dinamica cioè non si riesce a passare dal pianissimo al forte in questa maniera qua per cui un trucchetto che ho capito e che ho sviluppato in questi anni è quello di agire sul volume proprio del bus poi ovviamente ho raggruppato tutti questi archi in un unico bus che ho chiamato strings e qua sono andato un pochettino a giocarmela con il volume andandolo proprio a programmare a mano cioè andandomi a mettere in loop come vi ho spiegato prima un tot di battute 4-5 e andandomi a creare tutte le dinamiche come più o meno ce le avevo io in testa per finire c'è questa parte finale in cui ho utilizzato anche qua un suono di ensemble perché mi suonavano già bene così da soli e ho utilizzato sempre i chamber strings e ho utilizzato questa articolazione qua sul tasto che è un pochettino più soft come approccio diciamo questo è quanto ragazzi ho condiviso un pochettino tutto quello che avevo in mente di condividere e per concludere che cosa possiamo dire probabilmente diciamo che per quanto riguarda la scrittura bisogna fare un pochettino più attenzione nell'allontanarsi da determinate concezioni da determinate regole per quanto riguarda invece la scelta del suono qua abbiamo un margine molto più ampio perché ovviamente ci sono tantissime librerie sul mercato ognuna con un proprio sound con un proprio suono e sta a noi scegliere quella che ci piace ed eventualmente combinarla con altre io stesso quasi mai uso in due progetti diversi le stesse librerie di archi provo sempre a mischiare un pochettino le carte in tavola per ottenere sempre dei suoni differenti detto questo vi ringrazio per aver guardato questo video fino a questo punto qua niente spero che all'interno possiate trovare degli input o comunque qualche consiglio utile e spero di ritornare presto con qualche altro tutorial intanto vi ringrazio ancora e vi saluto